Sì, volevo chiedere al dottor Noto, a Catanzaro si parla da tanti anni di rifare lo stadio nuovo, ecco, parlando per assurdo, per ipotesi, lei sarebbe più per ammodernare quello attuale oppure potendo, lei valuterebbe l'opportunità di costruirne uno nuovo? No, la mia idea è quello che lo stadio che abbiamo adesso non è uno stadio funzionale, nel modo più assoluto, anche gli ingressi e le uscite sono in maniera normale, lo stadio si è fatto nuovo, ha fatto tutto in sana pianta, secondo i concetti moderni, in una zona di facile viabilità, di facile scorrimento, senza intrasciare il traffico, fatto come Dio comanda e non in questo mondo, assolutamente per uno stadio nuovo, non c'è dubbio.